Sono 314 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 4864 tamponi molecolari e 1804 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 4,7%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 98. Quella di Chieti oggi è la provincia abruzzese più colpita, dove si registrano 123 nuovi casi. A seguire l'Aquilano con 72 casi, il Pescarese con 66 casi e il Teramano con 47 casi. Quattro dei contagiati invece provengono da fuori regione, mentre per una persona sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 430 guariti, 11 decessi, di cui quattro avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. In Abruzzo gli attualmente positivi sono 10.132, 128 in meno rispetto a ieri. Di questi, 670 pazienti, 15 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 68 sono in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri ma con 5 nuovi ingressi. Gli altri 9.457 positivi accertati, 112 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Grazie. Grazie. Grazie.